Bene, buonasera a tutti, siamo al decimo appuntamento del nostro progetto Restart, un ciclo di webinar che parte dall'iniziativa Repubblica Digitale del Ministero per l'Innovazione, del Dipartimento dell'Innovazione e della Presidenza del Consiglio. Questa iniziativa è volta anzitutto alla riduzione del digital gap in Italia. Abbiamo visto negli ultimi indici desi che quella delle competenze digitali in Italia è purtroppo un aspetto, un tasto molto delicato. Siamo a quattro ultimo posto all'interno dell'Unione Europea per competenze digitali e quindi un aspetto su cui noi come associazione vogliamo insistere, vogliamo lavorare affinché questo gap al progresso dell'Europa si colmi, perché non è possibile pensare di vivere in modo consapevole come i cittadini e come europei senza patologiare quelli che sono gli strumenti del digitale, dove personalmente non intendiamo soltanto naturalmente i dispositivi, ma soprattutto i modi e le forme dell'interazione all'interno dell'infosfera. E inoltre il progetto Restart vuole anche costruire una libreria, una biblioteca di interventi e per questo che di volta in volta cerchiamo di avere con noi persone di diversa estensione. Stasera abbiamo il piacere di avere Simone Stricelli che è nostro social, social di Autopia, ma è anche fondatore di Caps Communication e si occupa, ma ce ne parlava lui in modo più approfondito, si occupa di design, di comunicazione, di progettazione. Bene Simone vuoi dirci qualche parola su di te? Sì, grazie intanto Roby di avermi invitato, di avermi dato questa possibilità e grazie a Utopian appunto di questo momento Restart, di condivisione che assolutamente secondo me ci vuole e ci voleva. Qualcosa su di me, sarò breve così non annoio troppo e parliamo magari di cose più interessanti. Io ho creato Caps Communication dopo una precedente esperienza all'interno di alcune agenzie in giro per l'Europa, sempre agenzie di comunicazione, chi si occupava più diciamo del lato branding, chi più del lato campagne pubblicitarie eccetera, però comunque la mia estrazione arriva da questo mix di realtà e circa intorno al 2012-2013 ho iniziato l'avventura con Caps Communication che è adesso l'agenzia appunto che cerchiamo di far decollare. Bene, ma dici un attimo come fare l'impresa oggi in Italia? Eh, fare l'impresa, bella domanda, è un'impresa. In realtà è molto ma molto difficile, molto difficile perché comunque la situazione da cui arrivavamo pre-pandemia comunque vede molta ancora analfabetizzazione tra le persone, cioè vengono da te, ti chiedono, sanno bene che cosa vogliono, vogliono che tu gli chiarisca le idee più che magari fare un sito, avviare una campagna di comunicazione. Parliamo ovviamente del target medio perché poi la grande azienda sa effettivamente quello che vuole, quello che vorrebbe avere come servizio. Il problema è appunto sulle medie aziende e piccole e medie imprese che quando vengono vogliono che tu gli risolvi tutti i problemi che loro hanno legati alla comunicazione ma con diciamo dei forti sconti ecco, cioè il lato economico è sempre la prima cosa che nel marketing, soprattutto chi fa marketing lo sa, è il budget. Ti dicono tutti non abbiamo budget ma vogliamo andare sulla luna ed è molto complesso, ed è davvero molto complesso e oggi fare imprese in Italia è molto complesso per questo motivo perché oltre già a una situazione pregressa oggi si è messo di mezzo anche una pandemia che ha bloccato i consumi in un certo senso, ci sta cercando di dire in qualche modo guardate che il vostro sistema economico non funziona più, è inutile che provate a procrastinare la sua morte e quindi adesso stiamo facendo i conti con questo momento che potrebbe essere per tanti aspetti il momento zero da cui davvero ripartire e avere un restart e fare anche un reset. Quindi secondo te la pandemia potrebbe anche essere un'occasione? Secondo me sì, cioè personalmente parlando è un'occasione per cui effettivamente quando tu hai, prendo una notizia di attualità, però quando tu hai 170 imprese in una determinata industria che fino a ieri erano magari lo zoccolo duro di questo paese e oggi non lo sono più perché per tanti motivi, per motivi di sicurezza, motivi di sicurezza sul lavoro intendo, per motivi anche economici perché comunque l'offerta che loro propongono rispetto alla domanda andava bene magari negli anni 60, 70, 80, oggi fa fatica perché anche il telefono, questo semplice telefono che tu compri sai benissimo che dopo 3-4 anni magari l'hai pagato 200-300 euro e dici ne compro uno migliore, se si rompe me ne compro un altro, pazienza, cioè abbiamo cambiato il nostro modo di consumare anche i prodotti e di conseguenza questo momento ha messo davvero in discussione secondo me il nostro sistema economico perché ci sta facendo capire probabilmente che dobbiamo puntare su settori che sono differenti da quelli a cui abbiamo guardato con tanto amore e tanto voglia di salvare economicamente parlando anche posti di lavoro e secondo me questa è l'occasione buona per davvero farsi un esame di coscienza e dire se il mondo del lavoro dovrebbe cambiare di conseguenza la pandemia, personalmente parlando ci sono tante possibilità che apre una crisi del genere perché ti fa ripensare completamente il sistema e non solo il sistema Italia, il sistema Europa insieme all'Italia. Sì, infatti quello della Roma è un altro tema su cui più tardi magari torniamo. Una prova a me interesserebbe innanzitutto capire il perché di questo titolo. Il titolo chiaramente è stato scelto da Simone e abbiamo tre parole chiave all'interno di questo titolo. Ora, qual è la ragione? Perché hai fatto questa scelta? Ho fatto questa scelta perché in realtà pensando quando ci siamo detti lanciamo questa idea, lanciamo questa iniziativa, pensando proprio a quello che stavamo vivendo. In realtà stavamo vivendo un presente che ci vedeva costretti in casa e quindi da un certo punto di vista il futuro sembrava davvero lontano, anche troppo lontano per certi versi. Quindi l'avere un'immagine sul futuro e non è solo dire voglio proiettare la mia mente nel futuro, ma è proprio pratichiamo il futuro. Cioè noi in questo momento stiamo facendo la pratica del futuro in un presente che è pieno di dubbi, incertezze e domande, però se noi iniziamo oggi a praticare il futuro, secondo me è totalmente diverso che immaginarsi ed essere visionari. Cioè vuol dire che oggi possiamo fare delle scelte che domani qualcuno ci potrebbe ringraziare. Human perché siamo persone, perché la comunicazione da tutti i punti di vista, senza il soggetto che è l'individuo, la persona, non la puoi fare. Cioè i brand, i marchi, noi stessi che siamo addetti ai lavori, quando costruiamo una campagna non la costruiamo per un prodotto o su un prodotto, ma la costruiamo sulle persone che soffriranno quel prodotto. E quindi hanno bisogno di essere trattate da persone. E innovazione perché è un punto fondamentale. Cioè noi in questo momento da addetti dell'industria creativa stiamo vivendo una profonda innovazione perché non abbiamo mai dovuto comunicare ai tempi di una pandemia o di una crisi sociale. E qualsiasi cosa tu possa dire può essere letto in molteplici, diciamo derivazioni. Nel senso che il digitale, i social network, ma anche le campagne outdoor, pensiamo ai cartelloni, ai manifesti, eccetera. Cioè è facile in un qualche modo costruire un messaggio che può essere fuorviante, può essere letto in maniera diversa. Invece noi dobbiamo lavorare affinché diamo coraggio alle aziende di dire guardate, questo è un momento critico, comunicare è essenziale. Vuol dire non lasciare il tuo pubblico, le tue persone, il tuo target da solo a cercarsi chissà quali notizie, chissà quale condivisione. Perché poi adesso con il concetto delle tribù, anche nelle aziende, c'è questa voglia di introdurre le persone a far parte, diciamo, dell'azienda e non solo più del prodotto. Quindi ti dico, quando ho scritto questo titolo, l'ho scritto proprio in previsione di questo. Cioè, secondo me, tre cose fondamentali che da qui, nei prossimi anni, saranno ancora più fondamentali per le persone, per le aziende, per gli individui stessi, perché stiamo, una pandemia ha messo in discussione anche, per esempio, il nostro sistema di informazione. Cioè, come ci informiamo sulle cose? E il digitale, da David Puente a IBM, cioè, che sono due realtà completamente diverse, però nel loro piccolo, David Puente, e nel, diciamo, in un sistema più grande, IBM, hanno dato... Nel loro piccolo IBM era un po'... Era un ossimoro, certo. Però, voglio dire, hanno dato fiducia alle persone in questo contesto. In questo contesto di disinformazione o di informazione allargata, chiamiamola così. E quindi, ho voluto proprio imprimere questo focus. Beh, tu parlavi di brand, parlavi di persone, no? Qual è il legame tra brand e persone? Come sta cambiando oggi? Quanto i brand si stanno preoccupando di piacere, se vogliamo, alle persone, non soltanto invogliando dell'acquisto, ma magari anche condividendo un certo tipo di responsabilità, muovendosi all'interno di ecosistemi, creando consapevolezza. Quanto questo movimento profondo, o invece, semplicemente, un altro modo di vendere? Diciamo che ci sono entrambi gli aspetti. Però, come dico sempre, nella responsabilità sociale che i marchi hanno, se fanno i ruffiani, le persone se ne accorgono. Cioè, nel senso, se tu dici, non hai mai comunicato, per esempio, l'esigenza di rispettare l'altro, il diverso, visto che stiamo vivendo il mese del Pride, no? E tu, di colpo, te ne esci con una campagna sul Pride che non ne hai mai parlato in 5-6 anni, diventa difficile da credere che tu, effettivamente, stai facendo quella cosa perché vuoi condividere, diciamo, quel tipo di diversità. Ti faccio un esempio stupido. Pepsi, qualche anno fa, fece una campagna, appunto, proprio su una manifestazione dove c'erano, non ricordo se erano sudamericani o ispanici, oppure persone di colore. Adesso non ricordo più. Avevano utilizzato un'icona, che adesso mi sfugge il nome, che andava dal poliziotto in mezzo a tutto questo fracasso, no? E gli apriva la lattina di Pepsi, gliela dava, la condivideva col poliziotto e volemosse bene tutti quanti. Ha tirato giù il mondo, diciamo, della comunicazione perché effettivamente dalle persone non è stata vista come effettivamente la scelta di dire, ok, comunichiamo che a livello sociale dobbiamo essere tutti uguali, no? Quindi, da questo punto di vista sta cambiando. È già cambiato, l'abbiamo visto col climate change, con tutte le tematiche legate all'ambiente, per esempio, anche Marchi Italiani, Levissima, per esempio, ha fatto delle campagne molto interessanti, parlando poi di Patagonia, North Sales, tutti questi che comunque girano a quel tipo di mondo, no? E, per esempio, loro hanno, la loro social responsibility è molto ben vista, sono costruiti proprio su quello, perché comunque l'ambiente è una cosa che loro devono tutelare, perché se vado a farmi le scalate in montagna, cioè, se so che il pile che ho addosso, domani lo posso riciclare in un qualche modo e ridare di vita e non essere buttato e disperso nell'ambiente, sicuramente è una cosa che faccio in modo proattivo per l'ambiente. Quindi, diciamo che è cambiato. Oggi sta cambiando ancora di più, soprattutto per quello che stiamo sentendo e stiamo vivendo, in un certo senso, anche di rimbalzo dagli Stati Uniti, perché una crisi, una pandemia ha messo a nudo tutte le criticità della nostra società, come dicevo prima, e le diseguaglianze sociali. E, ancora di più, diciamo, il fattaccio che è successo negli Stati Uniti ha aggravato ancora di più questa crisi sociale, che non è tanto un divario tra ricchi e poveri, ma è proprio discriminazione razziale. Quindi, ci sono molti marchi. Nike è stato il primo e su tutti e continuerà a farlo, penso, perché è una voce, è ormai diventata una voce autorevole per la difesa dei diritti delle persone, perché, ovviamente, la maglietta Nike la mette l'atleta bianco, l'atleta nero, l'atleta cinese e via dicendo. Quindi, di conseguenza, è davvero un, diciamo, un punto di riferimento. Ma ce ne sono anche tanti altri che si stanno muovendo in questa direzione, che stanno prendendo delle posizioni, perché poi, ne parlavamo giusto stamattina, Coca-Cola che toglie la pubblicità da Facebook, perché dice che Facebook non si espone in un qualche modo di fronte, no? E insieme a Coca-Cola altri 72 brand non si espone e non difende i diritti di una società che subisce una diseguaglianza, questo ti fa pensare quanto invece Coca-Cola come marchio, ma dietro come persone desiderano invece che Facebook, Twitter, YouTube e via dicendo facciano invece un'azione contraria. Quindi, noi in questo momento lo stiamo vivendo, penso, al massimo. Il discorso è che, per esempio, a livello italiano non abbiamo nessun marchio che osa così tanto, perché vuol dire avere un coraggio, doverti esporre e l'esposizione in Italia non è mai vista benissimo, perché in un attimo puoi sembrare una cosa e l'attimo dopo esserne un'altra e nel parlare comune è facile dare delle posizioni sbagliate, delle idee sbagliate alle persone. Però questa potrebbe essere anche un'opportunità magari per i piccoli di cogliere l'occasione e di esporsi. Questo sicuramente sì, con campagne diciamo a lungo termine sicuramente, perché l'altro grosso problema è che se il mercato italiano è abituato a fare campagne, ma questo negli ultimi dieci anni quasi tutto il mondo del marketing ragiona così, a breve e medio termine. Cioè, ma diciamo più sul breve, perché comunque tirano fuori 200 prodotti all'anno hanno bisogno per ogni prodotto fanno un'alterminata comunicazione pensando che il loro target sia immenso, ma quando poi hai 5 prodotti e 4 che hanno il tuo stesso marchio cambia solo il colore e se è senza zuccheri, se è senza caffeina, se è senza con quello e con l'altro capisci che ad una certa tu consumatore quale dici? Qual è la differenza? La differenza potrebbe esserci, ma se leggi l'etichetta potrebbe anche non esserci. Quindi si fa se vogliamo anche comunicazione attraverso il prodotto, si fa soprattutto quello, quindi io non sto offrendo più tanto del prodotto in sé, in un certo senso, ma sto offrendo un messaggio di una narrazione. Questo sì, questo sì, è un'azienda che in questo caso ha fatto grandi cose, per esempio negli ultimi due anni è stata Apple. Apple ha costruito gli store di nuova generazione proprio sulla condivisione di esperienze. Tu all'Apple Store non vai soltanto più per comprarti il telefono, l'iPad o il o il Mac, no? Vai e hanno un calendario che è lungo praticamente 365 giorni l'anno ti puoi trovare il DJ, la musica, piuttosto che il corso di fotografia, come modificare, come fare grafica, l'illustratore, giochi per i bambini per avvicinarli alla didattica di digitale, cioè sta realmente anche cambiando la condizione in cui i marchi dovrebbero lavorare. Questo, cioè, ma questo è dovuto a come tu persona, no? Nei miei confronti ti poni. cioè se tu ricerchi e hai bisogno non solo più di assistenza di un prodotto ma vuoi vivere con una comunità quel prodotto e quindi hai delle esigenze anche dettate magari da un problema lavorativo. Fammi dire, cioè, oggi magari io sono bravo a disegnare, non ho delle basi per fare l'illustratore, ho la possibilità attraverso magari 5-6 corsi, un ciclo di webinar per dirti dal vivo di imparare a fare delle cose che magari io non ero capace a fare e mi approprio sempre di più poi, no? All'aspetto di dire cerco la formazione, l'ambito formativo e tanti marchi lo stanno facendo questa cosa perché le persone hanno bisogno, chiedono oltre il prodotto di vivere il prodotto. Guarda, io vorrei un attimo una parentesi sul tema appunto della responsabilità sociale dei marchi su un aspetto particolare. Noi abbiamo visto con il tracciamento dei contatti o l'exposure notification vogliamo chiamarlo che in fondo la scelta sul modello da adottare non è stata del governo italiano o del governo tedesco o di quello inglese che peraltro ha fatto un clamoroso YouTube, no? è tornato indietro. o di altri tranne pochissime eccezioni in Europa. È stata dei marchi, è stata di Google e di Apple. Ora, come vedi tu questa cosa? Come vedi il fatto che siano dei soggetti privati a decidere nel modo in cui uno Stato deve governare la salute pubblica? Per me premetto non è necessariamente un male questo. Mi sto interrogando quindi chiedo un po' anche a te come la pensi. Guarda, io la vivo questa cosa la vivo abbastanza bene nel senso che anche quando all'epoca dicevano scaricatevi l'app perché così non l'ho mai vista come una fonte di pericolo. Sarà che nel senso di diciamo di quello che può essere l'ambito dati lo scambio di informazioni e tutto quello che può riguardare da questo punto di vista. Io penso che sempre più diciamo nella pubblica amministrazione il privato avrà spazio. Questo è indubbio perché per quanto magari ci siano tantissime persone che sono in grado di lavorare diciamo nell'amministrazione pubblica su piattaforme sui prodotti necessari per andare avanti sulle infrastrutture e tutto quanto c'è un problema che la pubblica amministrazione non ha budget cioè quello che può fare un privato a livello di struttura sponsor cose che può tra virgolette trovare per creare un prodotto la pubblica amministrazione non ce l'ha ma non ce l'ha secondo me per un motivo molto molto semplice che non è solo per una carenza di discorso economico lato economico ma anche per la burocrazia perché non ci dimentichiamo che tu sta cioè tu ente pubblico se vuoi fare una cosa devi fare il bando devi aspettare i giorni del bando tutte queste cose qua che da una parte sì sono utili perché servono a non prendersi diciamo le fregature dall'altra però rallentano tutto un processo dove magari chi può darti effettivamente mano d'opera no non può accedervi perché c'è il bando e il bando ti dice se tu non incassi incassi meno di 200 mila euro l'anno tu non puoi partecipare a questa gara questo è così nella pubblica amministrazione ma anche nel nostro settore cioè tu fai i bandi per diciamo se accedi ai bandi il minimo che ti chiedono è mezzo milione di euro di incasso all'anno è ovvio che poi trovi sempre per coca cola per quello per l'altro che c'è sempre il marchio x y z come agenzia perché sono loro che hanno il potere economico di conseguenza questa la domanda che mi fai tu secondo me è molto invece importante perché se invece i privati vengono responsabilizzati anche su diciamo il problema della cosa pubblica è un'iniezione che invece la pubblica amministrazione può soffruire ed evita ed evita magari di avere degli allungamenti no di un procrastinarsi per fare un prodotto ci vogliono dieci anni no tu magari non hai il prodotto migliore ma ce l'hai in sei mesi gli altri sei mesi per dirti in un anno magari riesci ad avere il prodotto migliore perché perché tu comunque sfrutti poi l'utilizzo di quella app di quell'infrastruttura che ti serve per ottimizzare perché non tutte le ciambellescono col buco al primo colpo puoi essere anche dio del codice ma sappiamo benissimo che purtroppo soprattutto il mondo diciamo di questo tipo di diciamo di di settore è fatto sull'esperienza se tu non hai l'esperienza di per esempio di come funziona un'app è difficile poter intervenire sulle infrastrutture e dire guardate mettiamola in sicurezza così facciamo questo tipo di cambiamento perché non hai persone che la utilizzino quindi il boicottaggio preventivo solo perché l'ha fatto un privato ti dico io lo vedo un po' come darsi un limite e dare un limite alle possibilità degli altri certo questo è sicuramente un tema importante un altro tema è appunto il fatto che la decisione sul modello e addirittura in un senso di tutela maggiore della privacy dei cittadini sia stata presa appunto non dal soggetto pubblico non dallo Stato ma da brand no? da dei arrivati ed è quasi paradossale no? che gli stessi soggetti che magari dagli attivisti vengono accusati di fare anche trattamenti di dati non trasparenti no? pensiamo a Google per esempio poi siano invece quelli che alla fine della fira proteggono di più l'utente dei loro prodotti in qualche modo no? nel senso che il modello decentralizzato per esempio su cui è bastata l'acqua immuni ma anche le altre app in giro per l'Europa tranne appunto l'eccezione francese è un modello che è stato imposto di fatto dal dai due giganti no? da Google e da Apple potrebbe essere secondo te che la condizione di cliente di un brand sia quasi preferibile a quella di cittadino di uno Stato o comunque sia un'evoluzione no? io come ti dicevo prima la vedo come un'evoluzione non tanto come ti do una regola perché è così cioè io la vedo come un'evoluzione perché di fatto ti dico Google le persone che vivono in Google fanno parte di uno Stato poi il discorso è sempre lo stesso cioè io posso essere la persona più buona del mondo no? ti faccio un esempio su una cosa che è passata ormai no? sull'uso dell'energia atomica tu l'hai scoperta la puoi utilizzare bene se il tuo libero arbitrio ti dice di utilizzarla bene tu la puoi utilizzare male se il tuo libero arbitrio ti dice di utilizzarla male stessa cosa sui dati adesso secondo me noi siamo tanto spaventati diciamo dalla questione dati dopo il botto che ha fatto Kendrick analitica perché nessuno si aspettava che dietro diciamo giochini di Facebook o comunque FaceApp cose simili ci fosse il giro no? di contatti di persone eccetera quindi da questo punto di vista è seriamente preoccupante la cosa però quando quando il soggetto è Google io dubito che si faccia diciamo si segui le gambe per così poco perché l'introito che ha Google è differente poi su come vengono utilizzati i dati eccetera lì c'è sempre questa diciamo questa grande bagarre no? vengono utilizzati cioè se tu firmi un modulo dove dici che il tuo numero di telefono non deve essere dato al call center e subito dopo però esci vai a fare la cosa del gas e autorizzi tutte le varie le varie diciamo spunte e sotto c'è scritto pure che ti possono vendere i tuoi dati tu li hai venduti cioè e non è l'app è il pezzo di carta cliccato con un avvi cioè è quello che è paradossale secondo me nel 2020 non tanto che un'azienda ti dia delle regole c'è l'azienda privata che dice allo Stato queste sono le regole le condizioni per utilizzare quest'app secondo me non è sbagliato non cioè si può poi aprire un tavolo di discussione sul fatto di dire cosa è meglio cosa è cosa è peggio però ti dico dal mio punto di vista non è poi una cosa così limitante perché magari il danno che ti può fare un privato rispetto al pubblico a livello diciamo di sicurezza è più è più tutelato mettiamola così che magari non sai bene dove finiscono i tuoi dati perché la pubblica amministrazione in un certo senso ha un buco nero e su una cosa del genere non lo puoi sapere è un terno all'otto perché non l'abbiamo mai vissuta cioè non siamo mai stati costretti a vivere effettivamente una situazione del genere quindi anche il comportamento è più difficile da capire qual è quello giusto qual è quello sbagliato e dici ma poi Google vende alla Bayer il mio dato e dopo che l'ha venduta la Bayer pazienza ma infatti secondo me il tema non è tanto che cosa fa Google con i nostri dati ma qual è la capacità che Google ha o Apple o qualsiasi altra big tech di togliere poi spazio alla politica di decidere al posto della politica e quindi forse il rapporto tra il brand e il consumatore è un'evoluzione del rapporto tra lo Stato e il cittadino potrebbe essere potrebbe vederla in questo modo anche anche sì io non penso che comunque cioè nel senso pratico proprio non penso che Google o Apple o Huawei per fare un altro nome che in questi giorni in questi mesi ha tanto fatto suonare non penso che che in un qualche modo si vogliano sostituire o comunque togliere potere allo Stato probabilmente non lo voglio però di fatto è quello che succede sì però non credo per rispondere poi in breve alla tua domanda secondo me non è poi tanto una questione di questo tipo e invece parlo per esempio di Stato Italiano una cosa che ho notato io è che in un periodo come questo si fossero avvalsi magari due o tre persone specializzate in comunicazione avrebbero magari aziende private perché no secondo me avrebbero potuto fare meno danni cioè dare meno l'impressione di essere impreparati su determinate tematiche che dovevano affrontare di quanto poi in realtà effettivamente alla percezione comune delle persone perché poi è di quello che parliamo no cioè del comune delle persone della strada e invece è stato il senso opposto come quello di improvvisatezza quindi ti dico non è un male per esempio che Google o Apple o comunque le big tech abbiano delle parti importanti all'interno della vita pubblica e c'è chi ovviamente la vede come una intromissione no e c'è chi vorrebbe poi togliere queste diciamo recuperare questo spazio costruendo delle alternative solo italiane o solo europee certo simili alla appunto alle ai prodotti offerti dal diciamo il che però è un po' paradossale no perché tu vai poi resti lo Stato o la Unione Europea che inizia a competere con Google per esempio sui prodotti che Google offre quindi due soggetti che fanno due mestieri completamente diversi ed è chiaro che non c'è storia no Google ha altrimenti un vantaggio enorme quindi forse quello che lo Stato o comunque che il soggetto pubblico potrebbe fare è favorire la nascita dell'impresa privata la nascita la crescita e lo sviluppo dell'impresa privata ma senza puntare all'autonomia tecnologica in quanto tale no perché si dice ci sono un sacco di progetti in giro alcuni anche di livello di dimensioni molto molto grandi no si parlava di Gaia di Gaia il progetto Franco Teresco per la costruzione sostanzialmente di un cloud federato italiano scusate europeo appunto che sostituisca sostituisca quelli Amazon o Google e così via però secondo me c'è un problema di fondo cioè il fatto che si vuole appunto costruire un prodotto che abbia che sia in grado di sostituire prodotti che invece hanno una valenza globale su un territorio specifico quindi io costruisco il cloud europeo pretendendo di competere con un cloud globale anche qui probabilmente c'è un però devo dire che ci sono il tema un po' dell'autonomia tecnologica dell'indipendenza tecnologica è una sirena a cui moltissimi cordono orecchio anche molti insospettanti in Italia ma anche perché probabilmente perché c'è una forma di conflitto di interesse istituzionalizzato quella del consulente il consulente naturalmente quando quando si trova davvero la possibilità di partecipare a progetti di questo tipo naturalmente ci va ci va a nozze quindi si tende a anche per un grado della durata e così via e non sempre beneficio in realtà poi di quella che è la convittenza di quello che è poi il soggetto pubblico che li aveva promossi comunque per tornare invece un po' al tema ai temi che ci interessano di più in questo momento si parla appunto di responsabilità sociale dei marchi e in particolare un tema su cui la responsabilità sociale si sviluppa molto è quello della sostenibilità del green sappiamo che anche anche l'Europa no soprattutto in questi in questi mesi sta investendo o comunque sta promettendo di investire tantissimo su un green deal vuole esplicitamente dichiaratamente raggiungere una eccellenza energetica una totale dismissione delle fonti non rinnovabili vuole essere in questo il volano ma il volano ma addirittura il pioniere a livello globale poi secondo te in tutto questo che ruolo può avere il design che ruolo può avere la comunicazione beh e ti dico qui qui apri tanti tanti spiragli e si apre se vuoi il 100% del mercato del futuro perché se mi fai queste domande io ti dico green aerospazio sono le due cose su cui noi come come specialisti della comunicazione e designer dobbiamo assolutamente guardare il futuro e proprio perché anche adesso vedendo un po' quello che è il quadro generale sono tante le aziende le realtà anche come piccole start up intese come piccole che poi non sono così piccole perché pensiamo anche a strutture belle grosse in questo avranno un gran bisogno di comunicare perché sostanzialmente è un mondo se vogliamo quasi quasi sconosciuto ai più almeno che tu non sia dentro il settore quindi anche la ricerca per esempio di creare dei marchi leggevo un po' di giorni fa un articolo che parlava dell'esigenza di creare dei marchi che siano green cioè questa cosa a livello globale manca perché perché è difficile che l'azienda che per dire fa pannelli solari in autostrada venga da te a dirti oh io ho bisogno di un logo perché tanto io comunque lavoro lo stesso cioè è il concetto per cui finché riesco a sopravvivere non penso a tutte le opportunità che il mercato invece mi offre al contrario per esempio quello è un settore che come dici tu in espansione in Europa che magari però tu azienda europea parti dall'Europa per uscire fuori per andare cavolo a Dubai piuttosto che in altre situazioni in Africa eccetera cioè potresti benissimo invece con un'immagine curata un'attenzione al tuo prodotto a quello che proponi alla tua filosofia al fatto che comunque non sei un'azienda convenzionale che dici trovo tutti i giorni quello invece può essere il gap del futuro che invece ti dice ti fa pensare signori siamo di fronte ad una realtà ad una corporate a un'azienda che seppur in un arco breve di tempo è riuscita a costruirsi la sua storia crea una narrazione che alle persone è facile da comprendere quindi anche magari sull'utilizzo del prodotto in casa se tu mi metti il Dyson tutti sanno che cos'è però magari mi metti un prodotto N qualsiasi dell'azienda X campana per dirtene uno e non lo conosci e non sai chi è cioè perché perché comunque ha creato il prodotto te lo mette lì ti dice questo è il mio prodotto compralo e in realtà non è così cioè io faccio sempre questo parallelismo no cioè il Dyson è magari un prodotto non eccezionale ok però è un prodotto che a livello di marketing ha una narrazione quindi tu che hai il tuo prodotto che è migliore ma non ha narrazione resta lì fermo quindi anche nel green soprattutto nel green soprattutto nei settori dove secondo me non c'è diciamo grande spazio culturale ok tra la popolazione sarà sempre più necessario vedere le cose da questo punto di vista cioè investire in comunicazione in comunicazione intelligente mi verrebbe anche da dire scusate ma a proposito del green facciamo una piccola nota politica perché hai visto hai visto che in Francia il diciamo il ruolo e l'importanza dei verbi sta crescendo un po' come era successo già qualche anno fa in Germania dove invece in Italia abbiamo una questione che è vicina all'irrilevanza se vogliamo da parte di voi poi molti molti osservatori politici accusano la galassia verde di essere da un lato poco omogenea poco strutturata dall'altra di sposare posizioni anti-scientifiche anti-economiche e anche e anche di proporre una una decrescita a tutti i costi quindi senza preoccuparsi di quelle che sono poi eventuali implicazioni secondo te come insomma in che forma può esserci un dialogo tra chi è interessato alla sostenibilità ambientale ma di un discorso di mercato e che invece propugna una appunto una una ricrescita a tutti i costi quindi il green come valore ma io non lo chiamerei neanche green diciamo chiamiamolo il chiamiamolo ma loro sicuramente si auto si auto proclamano appunto se vogliamo green per eccellenza però io farei una distinzione tra quello che il green come lo intende per esempio la commissione europea come lo intende anche il mondo liberale e il green invece come lo intendono nelle loro varie reclinazioni nazionali appunto secondo te è possibile un dialogo oppure come si deve porre chi appunto ha a cuore la sostenibilità nemmai in un contesto appunto di mercato e chi invece ha a cuore soltanto la decrescita io ti dico che secondo me queste due parti farle comunicare è comunque un po' difficile nel senso che è come far comunicare un vegano e un carnivoro cioè è è molto complesso perché ognuno di loro porta delle posizioni a favore o contrarie il secondo me il discorso è un è un altro cioè io sono molto affascinato per esempio dal discorso della green economy dalla blue economy da queste nuove da queste nuove diciamo ideologie che sono nate sotto diciamo cioè idee che sono nate ai piedi di alcune ideologie che sono secondo me passate fammi dire nel 2020 sono passate io penso che da questo punto di vista la società politica in questo caso quindi la governance dovrebbe prendere in mano questo tema questo discorso e fare un po' quello che sta facendo l'Unione Europea adesso cioè per esempio il green potrebbe essere una svolta per esempio per il mercato italiano e per molte industrie che in questo momento per esempio sono sull'orlo del fallimento se non sono già fallite per dirtene una cioè è comunque un discorso importante non deve essere radicalizzato perché poi il problema è un altro è quello di creare una società che tu dall'oggi a domani dici ah facciamo tutte piste ciclabili ah tutti i monopattini tutto così tutto cosà rischi poi di avere dei contraccolpi economici non da poco cioè vai vai a riparare una parte e distruggi un'altra il ecco perché ti dico che secondo me invece da questo punto di vista se ci fosse un'idea di governance di dire ok facciamo degli investimenti in questo tipo di infrastrutture convertiamo l'azienda X che oggi produce bulloni per le auto in qualche cosa che produce eh servizi green che poi il green fammi dire per me si sposa benissimo con la sharing economy che da qui a qualche anno cioè non da qui a qualche anno già oggi perché oggi sfido chiunque e comprarsi in automobile è una cosa che invece funziona eh però io parlo per esempio del mio comune no il comune di Torino per esempio la volta della sharing economy è stata una svolta per un comune così perché ha dato possibilità a persone di usufruire di servizi che tu oggi non potevi avere eh per esempio l'infrastrutture eh l'edilizia è ferma ok con delle politiche green associate per esempio a discorsi di co-housing di tutto quello che è anche una parte di se poi importante di comunicazione oggi come oggi sarebbero l'inclusione sociale per il domani cioè e e questi modelli dove sei tu li hanno già applicati per esempio e e quindi sai io ti dico meno chiacchiere su chi dovrebbe governare le due cose ma se ci fosse veramente un e non dico il pugno duro inteso inteso però che ci fosse qualcuno che realmente a livello governativo prende la situazione in mano ed è capace a prendere le decisioni non non corri nessun tipo di rischio ma segni una strada davvero che va verso il futuro ma abbiamo parlato hai parlato di Torino un caso un caso interessante del programma italiano tu hai vissuto lì sei 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 di Torino anche se adesso so che so che sei sei a Roma però conosci bene conosci bene il modo in cui la città è cambiata negli ultimi anni da un lato abbiamo avuto un po' se vogliamo la perdita di prestigio del polo automobilistico di Mirafiore sì che ha in qualche modo scontato la diciamo gli anni della della dirigenza precedente a quella di Marchion e poi magari anche la vicenda insomma Fussigone e la trasformazione di Mercier e magari anche la nascita in Italia del polo di 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 quindi da questo punto di vista forse Torino ha perso un po' posizione però nello stesso tempo invece è diventata una città che è un laboratorio molto forte di di pratiche virtuose appunto soprattutto nell'ambito trasporti quindi non più il trasporto inteso come vendita di di automobili ma trasporto in quanto trasporto pubblico quindi mobilità sostenibile mobilità smart multimodale e così via ecco su questo tu da appunto da cittadino sicuramente appunto hai avuto un'esperienza di vetta quindi puoi dirci anche qualcosa puoi dirci cosa ne pensi e dove secondo te Torino sta andando Torino sta andando sicuramente in una direzione dove è meno fiat centrica se vogliamo e anche diciamo con 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 l'aggiunta con l'aggiunta comunale attuale ha preso una direzione ben precisa che è quella di favorire gli incubatori e gli incubatori di start up perché lì diciamo che c'è diciamo uno sguardo forse più attento al futuro mettiamola così e non a caso il più grande acceleratore al mondo ha sede alle OGR le vecchie officine grande riparazioni cioè ed è una notizia di sei mesi fa quasi passata in servina cioè se non per alcuni per alcuni addetti al settore io penso che Torino da questo punto di vista abbia ancora bisogno di migliorare nel senso che siamo sulla strada giusta ma purtroppo noi non noi non ce la possiamo levare la condizione di quelli che non si muovono detto in dialetto e i bugianeni cioè di fatto è vero qualsiasi innovazione che viene portata viene vista come ah mio Dio cosa mi stai proponendo io come faccio sopravvivere se non vivere addirittura e quindi ti dico io dopo 15 anni di centro se chiudessero il centro realmente come vogliono fare cioè gli do io dei soldi perché effettivamente è impossibile cioè noi a livello durante la pandemia abbiamo rincominciato a respirare non avevamo più smog non c'erano più polveri sottili che giravano come girano sostanzialmente perché poi alcune cose sono proprio cattive abitudini cioè non è che tu dici il trasporto manca cioè non è come Roma che per fare magari da una parte all'altra ci metti due ore e mezza cioè aspetti al massimo un quarto d'ora se non passa un altro autobus cioè è un mondo totalmente distante magari per alcuni e per certi versi però ci sono persone che per dirti da dove abito io devo andare al bar che sta all'angolo al fondo della strada prendo la macchina cioè e sei a tre minuti a piedi cioè sono dei comportamenti sbagliati e in questo senso secondo me a livello per esempio istituzionale non hanno mai fatto una comunicazione che facesse realmente capire che cosa no quale danno procuri a te stesso e alla comunità in cui vivi cioè c'è questo c'è questa diciamo cupola di menefreghismo chiamiamola così dove ognuno guarda per se stesso e non guardi mai nell'insieme e a livello comunicativo invece potrebbe essere potrebbe essere una grande sfida quella per esempio di dire ma non solo al Comune di Torino a tanti altri comuni in Italia buttatevi su questa sfida comunicativa perché ci sono tanti modi e tante persone con cui si può collaborare da questo punto di vista ma senti si parla di smart working ma si parla anche di sound working cioè di gente che decide di trasferirsi al sud o di tornare al sud perché magari è nata lì e di lavorare e poi da remoto ma invece tu cosa perché uno dovrebbe trasferirsi a Torino se uno volesse fare magari non essendo turinese ma volesse lavorare da Torino ecco che cosa quali sono dimmi tre punti ecco tre punti forti della città tre motivi per cui uno potrebbe decidere di fare una scelta di questo non metto il calcio di mezzo no guarda lo fai la domanda alla persona forse meno indicata perché comunque io è vero che sono di qui ma ho vissuto tanto anche fuori da Torino e quindi da qui da bontorinese che esce fuori e rientra vede tutte le pecche possibili immaginabili della città e non vede mai forse il lato positivo sicuramente è una città che in questi diciamo in questi ultimi anni è diventata tanto a misura d'uomo e questo è diciamo secondo me una cosa a favore perché come dicevi tu al di là di tutte le cose però se tu devi spostare le infrastrutture c'è tutta una serie di fattori che poi guardi anche a livello scolastico cioè ci sono tante eccellenze per esempio e Politecnico comunque Simone ti abbiamo perso mi sa invece non è così poi a livello culturale per me a Torino a livello culturale è una città che ho nel cuore ma perché ci sono legato perché fin da piccolo ti portano a vedere Palazzo Madama il Museo del Risorgimento cioè grandi grandi realtà che hanno fatto diciamo l'Italia dentro questo questa piccola bomboniera e poi il terzo non lo so ti do questi due il terzo sicuramente non non la vedo come una città proiettata al business cioè al business il loco la vedo più funzionale nel senso per creare dei servizi che poi vengono venduti all'esterno questo sì cioè nel senso non è una non è una Milano dove comunque diciamo il business vive di più qui essendo noi essendo spostati verso la Francia non abbiamo grandi contatti e quindi devi proprio venire apposta e ti devi proprio far conoscere però tu vendi sempre verso l'esterno perché vendere un servizio in piemontese o sei a Cuneo o sei fottuto perché Cuneo è una realtà io ci ho lavorato per due anni e mezzo lì con l'ente del tartufo bianco d'alba quando stavano facendo proprio la avevano fatto la proposta e la domanda per diventare bene dell'UNESCO hanno una mentalità che è completamente diversa cioè gli albesi cunesi tutta quella zona lì vivono sono una grande industria che vive di quello che hanno del vino del salame e del turismo e sono secondo me un esempio virtuoso rispetto magari a Torino che invece da questo punto di vista è un pochino più chiusa e trovare realtà sul territorio così è molto più difficile quindi tu dove parlavi per esempio del più grande incubatore di start-up appunto a Torino non so dove tu abbia dove Chaos Communication abbia la sede ma consiglieresti ad un appunto ad un italiano o anche a un non italiano di appunto fare l'impresa usando anche gli strumenti che quell'ecosistema si stanno sviluppando ma io ti dico è interessante se tu ci riesci ad entrare il discorso è sempre questo ci sono è un'area dei team dei team così distribuiti sul globo fa sì che uno possa poi scegliere la sede in funzione di quelle che sono le opportunità non diciamo di vendita ma di ecosistema quindi se l'ecosistema offre il discorso è che l'ecosistema offre no? però il discorso è che tu cioè per rispondere a quello ecosistema che offre devi riuscire entrare dentro dei tunnel spazio temporale che sono lunghissimi e e di conseguenza a volte non è cioè non è detto che l'ecosistema che tu hai dietro casa no? come in questo caso sia l'ecosistema migliore con il quale tu riesci a relazionarti e ti faccio l'esempio mio che non riesco a relazionarmi qui però a un cliente a Londra me lo sono riuscito a procurare e tu dirai carchio è peggio cioè è più lontano Londra è più difficile no? che non che non magari dietro a casa tua e questo è quello che cioè è la difficoltà che si ha in questo settore cioè nel senso che magari io vorrei lavorare con te no? che tu sei magari l'azienda migliore di questo mondo ma tu non mi prendi in considerazione perché? perché ci sono tanti motivi no? e a volte anche spesso per un'analfabetizzazione tu non ti rivolgi a me ma magari sei a Milano e cerchi mi è successo perché questo è mio zio invece di alzare la cornetta e dire sì a me servirebbe questo questo e questo sede a Milano è andato a prendersi un'agenzia in campagna cioè che tu dici ma che motivo hai probabilmente passaparola contatti eccetera ti porta in questo in questa direzione io per esempio avrei dei settori industriali anche a livello di diciamo di territori in quale mi piacerebbe lavorare però è lungo arrivarci cioè nel senso per esempio a me il mercato italiano non mi piace perché ti mette troppi paletti è un po' come la burocrazia cioè le aziende sono un po' burocratiche mi piace o non mi piace se mi piace investo se non mi piace non investo e questo è un po' un limite che ci diamo è un limite secondo me che nel futuro non so se pagherà molto perché il mercato soprattutto tutto a livello della comunicazione è saturo cioè o hai veramente delle idee innovative e te ne esci con delle innovazioni reali anche da un punto di vista comunicativo che vuol dire osare parliamoci chiaro cioè e ti facevo l'esempio stamattina al telefono o osa di più Pampers nel periodo del coronavirus creando lo spot per i bambini sui canali dove guardano i cartoni animati per per dirti come lavare le mani no che non per gli adulti cioè cavolo perché a Muchina o qualche altro brand che vende prodotti per lavarsi le mani non poteva fare la stessa cosa perché non ci pensi cioè pensi a fare la retorica con la bandiera italiana andrà tutto bene la musichetta la voce i soliti cliché tutti siamo tutti contenti no e invece in realtà lì era una cosa importante per esempio in Italia secondo me c'è una sola azienda che ha fatto una cosa interessante negli ultimi anni da questo punto di vista che è Dash che aveva fatto una campagna dove ti diceva che le le pastiglie quelle da mettere dentro la vastoliglia del 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 bucato le dovevi tenere fuori dalla portata dei bambini non ti diceva compra il mio prodotto perché il mio prodotto è il migliore smacchia qui smacchiala no tienile fuori dalla portata dei bambini semplice io ti vorrei proporre di fare un secondo webinar stavolta in inglese per il tuo pubblico londinese sicuramente per un pubblico globale sarebbe interessante secondo me potremmo farlo anche ad agosto vediamo ci dobbiamo organizzare ci organizziamo ci organizziamo che il mio inglese ultimamente è un po' un po' un po' un po' troveremo uno slot grazie di essere stati uno dei specielli di Chaos Communication e anche Social Eutopian il prossimo webinar così l'appuntamento è lunedì prossimo il 6 luglio con Claudio di Mario parleremo di digital moving grazie a tutti buona serata buon proseguimento buona serata a tutti ciao ciao